Musica Prima edizione di Oratg, ben trovati a voi tutti, apriamo il nostro telegiornale con la cronaca, andiamo a Catania, divulgazione di materiale pornografico minorile e stigazione alla pedofilia. La polizia postale di Catania ha indagato 25 persone, tra cui 15 minorenni. Vediamo. Sono 25 le persone, compresi 15 minorenni di età compresa tra i 14 e i 25 anni, indagati dalla polizia postale a Catania e provincia per aver divulgato pornografia minorile e stigazione ad atti di pedofilia. Le indagini della polposta hanno preso avvio dalla denuncia della mamma di un adolescente, sedicenne all'epoca dei fatti. La donna aveva scoperto come su due gruppi WhatsApp, uno dei quali prendeva il nome dalla borghietta Europa di Catania, circolavano video ed immagini della figlia in pose sessualmente esplicite. Decine di minorenni sono stati segnalati alla procura perché dileggiavano e offendevano gravemente la vittima, che conoscevano personalmente. L'operazione pone ulteriormente in luce la gravità di un grave fenomeno, come quello della diffusione di materiale pedopornografico da parte di soggetti minorenni, nonché di altre condotte, riconducibili al cosiddetto cyberbullismo. La polizia postale ha provveduto a sequestrare materiale informatico e smartphone sottoposti poi ad approfondire analisi informatiche. Sì, gruppi WhatsApp in cui si scambiavano delle immagini e dei video di una minore in pose sessualmente esplicite. Questo chiaramente ha portato alla denuncia della madre, a un'attività investigativa finalizzata a individuare chi aveva veicolato queste immagini, questi file, e alla denuncia alla procura distrettuale, alla procura per i minorenni, di 25 soggetti, 15 di questi minori. È un fenomeno purtroppo in diffusione. Cosa si può fare per cercare di fare in modo che non accadano episodi di questo genere? Anche da parte delle famiglie un maggior controllo? Assolutamente. Un vigilare, monitorare l'attività dei figli, soprattutto quando sono infraquattordicenni, quando sono dei bambini. Noi lo diciamo sempre questo. E ogni segno di allarme, ogni minimo segnale insolito che possono dare i nostri figli, verificare, controllare e in caso, come è successo questa volta, rivolgersi subito alla polizia. In questo caso specifico cosa accadeva? C'erano queste immagini che erano state rubate, venivano veicolate in due gruppi, tra l'altro con parecchi aderenti, circa 450 utenti. E oltre alla veicolazione di queste immagini c'erano anche offese, molti dileggiavano, quindi condotte gravi di cyberbullismo, che sono state opportunamente segnalate alla Procura per i minorenni. C'era un coinvolgimento anche di qualche adulto? C'erano degli adulti, dei maggiorenni, anche se di giovane età, andiamo dai 18 ai 25 anni. E chiaramente risponderanno di divulgazione di pornografia minorile. Le raccomandazioni non sono mai troppe, dottore? No, anzi, dobbiamo sempre ritornare alla necessità di educare, di coinvolgere di più i ragazzi, di fargli capire il rischio di queste azioni, che poi portano ad azioni repressive, come in questo caso, con perquisizioni, sequestri e procedimenti penali. Rimaniamo in cronaca, ma da Catania ci spostiamo a Ragusa. Tratta di esseri umani e prostituzione. Fermati dalla Polizia, quattro cittadini nigeriani. Tratta di esseri umani per lo sfruttamento sessuale, delitti pluriaggravati dall'aver agito in danno di minori. Con questa accusa, gli agenti della squadra mobile di Ragusa hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di altrettante persone originarie della Nigeria, finite nell'operazione Family Business. È stato il GIP del Tribunale di Catania ad emettere i provvedimenti restrittivi richiesti dai magistrati della Didia Etnea nei confronti degli indagati, che avrebbero agito assieme ad altri complici libici e nigeriani ancora non identificati. L'inchiesta è stata aperta il 15 aprile del 2017 dopo le dichiarazioni di una minorenne nigeriana approdata insieme ad altri migranti nel porto di Pozzallo. La giovane ha raccontato la sua drammatica storia iniziata nel suo paese dopo che un'amica di famiglia avrebbe proposto il trasferimento in Italia per trovare un lavoro e sfamare così i suoi familiari. Si sarebbe sottoposta così al rito Juju, una sorta di patto indissolubile per cui la giovane, una volta arrivata a destinazione, si sarebbe impegnata a pagare 30.000 euro. Arrivata a Pozzallo, però, la ragazza si è rifiutata di rispettare quell'accordo decidendo di raccontare tutto alla polizia. Il quartier generale dell'organizzazione era a Brescia dove è presente la cellula nigeriana che gestiva l'attività di prostituzione delle giovani donne provenienti dal loro paese. L'organizzazione provvedeva a trovare un alloggio alle prostitute dove era presente però almeno uno dei componenti della gang in modo da esercitare un controllo più capillare e sottrarre subito i guadagni alle ragazze. Per le giovani che protestavano veniva commissionato in Nigeria ad un vudulista la celebrazione del rito del ciclo che avrebbe comportato per la vittima un ciclo mestruale perenne e quindi tale da renderla inavvicinabile e indurre la morte. Il gruppo risultava diretto da una donna nigeriana coniugata con un italiano che si avvaleva della stabile collaborazione della sorella e dei fratelli anch'essi residenti in Italia nonché di altri congiunti operanti in Nigeria. C'era anche un'altra donna nigeriana nella piramide del Sodalizio che, giunta in Italia come vittima di tratta non appena ultimato il pagamento del debito di ingaggio si era trasformata a sua volta in madame. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 della scala Ritter è stata registrata alle 23 e 26 di ieri sull'Etna nel territorio della provincia di Catania. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a solo un chilometro di profondità ed epicentro ad 11 chilometri ad ovest dai comuni di Milo e Zafferana. Ottava di Sant'Agata a Catania all'insegna della massima devozione malgrado la pandemia. Oggi cattedrale aperta in determinate fasce orarie e ordinate visite di fedeli all'Assacello della Santa Patrona della città. Si chiudono oggi in occasione dell'ottavo le celebrazioni in onore della Patrona di Catania Sant'Agata. Oggi la cattedrale è rimasta aperta dalle 8 sino alle 12 con pellegrinaggio composto da parte di tanti devoti che hanno pregato davanti all'Assacello. Una festività, quella della 2021, che sarà ricordata per le tante restrizioni dovute alla pandemia. Anche oggi spiegamento di forze per evitare gli assembramenti ma in tanti hanno lasciato un segno tangibile della loro devozione davanti alla Basilica. E' stata definita festa del cuore dove cuore significa una intimità vissuta con grande intensità. Stamattina vediamo le persone che si avvicendano alla Cappella di Sant'Agata con molta semplicità, con tanta serietà, con tanta serenità d'animo, alle volte con qualche lacrima. Certamente lasceranno dinanzi al Cangello del Sacello i loro desideri, le loro preghiere, la loro gratitudine. Lasceranno qualcosa che Sant'Agata dall'alto certamente ricambierà. Il Signore benedirà tutto quanto Sant'Agata gli presenterà innanzi. Lei personalmente come ha vissuto questa festa 2021 con queste condizioni, queste restrizioni particolari? Vede, c'ho la corona in mano non perché perché non avevo mai avuto la possibilità nei giorni di Sant'Agata di poter pregare un po' di più. Mi sono sempre spesso per stare con le persone, per gli impegni, per le situazioni a cui far fronte. L'ho vissuta così, l'ho vissuta nella preghiera e nella gioia anche di poter rappresentare la presenza, la preghiera di tante persone che non sono state qui. Soprattutto nei momenti in cui abbiamo aperto e chiuso il Sacello e quindi in momenti in cui sono state esposte le rique di Sant'Agata seppure nella situazione di privato, di chiusura, ho sentito molto la responsabilità di portare la preghiera di tante persone. un sentire che si è trasformato anche nell'avere innanzi nella mente e nel cuore, nel sentire proprio alle volte voci e volti di persone che non conosco che però mi sono note da tanti anni vissuti qui con Sant'Agata. E ho presentato le preghiere di tutti. Ho detto a Sant'Agata ascolta quanti avrebbero voluto essere qui a vederti, a pregarti e lo fanno da casa. Qual è il suo messaggio conclusivo ai devoti di Sant'Agata? Quella continua supplica a Sant'Agata in questo momento è chiedere il dono della serenità e la salute. Avviati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese siciliane per l'accesso al bonus Sicilia in contributo a fondo perduto che la Regione ha erogato lo scorso dicembre a favore di circa 57 mila micro imprese siciliane artigiane. I controlli si legge in una nota dell'assessorata alle attività produttive sono previsti dal Bando e saranno incentrati sulla regolarità e la veridicità della documentazione presentata dai beneficiari del contributo la presenza di irregolarità comporterà la revoca dello stesso contributo contestualmente gli uffici hanno avviato l'attività di soccorso istruttorio per alcuni beneficiari che invece non hanno ricevuto il contributo sul conto corrente per errori di compilazione della domanda tramite la piattaforma online che al tempo era stata attivata. Inaugurato oggi a Catania l'anno accademico dell'università con una cerimonia in streaming a 586 anni dalla fondazione del Siculore Ginnasio una cerimonia diversa dalle altre condizionata dal covid e quindi tutta in streaming per esaltare il racconto dell'antico e prestigioso Ateneo Catanese oggi guidato dal rettore Francesco Priolo che ha fatto ruotare il suo intervento attorno alla parola cambiamento un nuovo format e nuove modalità di racconto l'apertura che ha dato voce alle diverse componenti della comunità accademica con particolare riguardo agli studenti a conferma della loro centralità nel progetto universale dell'università di Catania una sorta di università che verrà spiegato Priolo coadiuvato dai direttori generali Giovanni Lavia e Bania Patanè non solo gli ospiti ma anche i testimoni al tre catanesi doc campioni della musica dello sport e della cultura e cioè Carmen Consoli Rossella Fiamingo Francesco Merlo a cui è stato affidato il messaggio che guarda al futuro ovunque da qui lo slogan che l'Ateneo Catanese consegna ai propri studenti da Catania dalla nostra università si può arrivare ovunque protagonisti dell'evento ovviamente gli studenti che hanno aderito al progetto Ritorno al Futuro festeggiando il 586esimo compleanno dell'Ateneo con i brevi video selfie che accendono aspettative aspirazioni progetti a cui legare il proprio ritorno al futuro non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo la crisi è la migliore cosa che possa accadere a persone e a interi paesi perché è proprio la crisi a portare il progresso la creatività nasce dall'ansia come il giorno nasce dalla notte oscura è nella crisi che nascono l'inventiva le scoperte e le grandi strategie chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato così scriveva Albert Einstein nel volume di lettere e saggi dal titolo il mondo come io lo vedo forte della sua fede nella scienza Einstein riusciva già a vedere la luce quella della rinascita sono trascorsi quasi 90 anni dall'uscita di quel volume e nel pieno di una crisi ormai non solo sanitaria le parole chiave di quel testo crisi creatività e cambiamento risultano più che mai attuali dandoci persino il modo di comprendere il valore di tutto quanto la nostra comunità è riuscita a mettere a frutto in questo lungo e difficile 2020 il dibattito su ciò che potranno diventare gli Atenei italiani nel post pandemia è sempre più animato e occupa le testate giornalistiche più accreditate ma io non posso non dire forte e chiaro che per quanto impegnata a perseguire e incentivare i processi di innovazione tecnologica e digitale un ICT non rinuncerà al valore aggiunto della didattica tradizionale quindi della didattica in presenza la politica di austerity che abbiamo scelto di seguire fin qui però non ci ha impedito di elaborare un piano di completa riforma della nostra amministrazione il primo dopo molti anni e che presto verrà portato all'attenzione degli organi di governo questo successo è solo in parte ascrivibile al perdurare della pandemia gli studi che abbiamo condotto ci mostrano quanto esso sia stato chiaramente influenzato dal gradimento della nostra organizzazione della didattica in un momento tanto delicato ma anche dello standard qualitativo dei nostri servizi che a fronte di un contributo da parte degli studenti tra i più contenuti a livello nazionale e pur tra mille difficoltà siamo sempre comunque riusciti a garantire A Catania il Consiglio Comunale sgrava dalla tassa di affissione pubblicitale società sportive cittadine il provvedimento sarà in vigore sino al prossimo mese di giugno Un aiuto concreto in favore delle società sportive catanesi arriva dal Consiglio Comunale quante di queste infatti utilizzano spazi pubblicitari per tabelloni o striscioni promozionali all'interno degli impianti sportivi comunali non dovranno pagare alcun canone di concessione sino al prossimo 30 giugno il civico consesso etneo infatti ha approvato la deliberazione con la quale si concede l'importante sgravio il tutto a sostegno delle società sportive già fortemente penalizzate dall'assenza di pubblico alle varie manifestazioni agonistiche non ultimo il calcio Catania che dall'inizio della pandemia gioca a porte chiuse abbiamo approvato un emendamento a firma del collega San Giorgio e di tutti i capigruppo di maggioranza per dare la possibilità a tutti gli impianti sportivi del comune di Catania di non pagare la concessione e il canone fino a giugno considerato la situazione del covid e considerato anche il momento di difficoltà per tutte le società sportive il consiglio comunale tutto ha approvato questo emendamento che dà una boccata d'ossigeno a tutte le società sportive devo dire che ci rientra pure il calcio Catania è giusto che lo sappia anche tutta la città ed è stato fortemente voluto da tutto il consiglio comunale tutto ciò si traduce in un risparmio importante tutto ciò si riduce in un risparmio importante alle società sportive il calcio Catania risparmia 10.000 euro a partita e anche le altre società sportive avranno un ritorno economico considerato che non ci sta andando nessuno né allo stadio né negli altri impianti perché non si può entrare a causa di questo maledetto covid nel frattempo sono stati approvati sempre in consiglio comunale nove mozioni sette a firma dell'ottava commissione servizi sociali presieduta dal collega Sebastiano Anastasi una firma del collega Curie San Giorgio e una firma del collega Petralia quella del collega Curie e Boracorsi prevede che il comune di Catania di rientrare all'interno dell'interporto considerato che l'interporto per noi è un volano di sviluppo sia da ora negli anni successivi il comune di Catania è rimasto fuori e quindi noi come consiglio comunale abbiamo chiesto all'amministrazione di impegnarsi e ritornare di nuovo in questa partecipata per quanto riguarda il collega Petralia ha fatto una mozione votata da tutti i consiglieri quindi anche se c'è una maggioranza o un'opposizione quando ci sono cose utili tutto il consiglio comunale come ha sempre dimostrato nell'arco di questi due anni e mezzo dà un'importanza una valenza importante per quanto riguarda il boschetto della Playa mentre il collega Anastasi e tutta la commissione consigliare l'ottava ha circa sette anzi esattamente sette emozioni perché poi credo che farà un insieme all'assessore Barbara Mirabella di tutte queste emozioni si farà un regolamento nuovo i carabinieri della stazione di Camporotondo e Tenneo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere hanno arrestato il 26enne Catanese Ignazzo Giovanni Tomaselli ritenuto responsabile di rapina aggravata infatti sono accaduti alcuni giorni fa a Camporotondo e Tenneo quando una Fiat Panda ha avvicinato un cinquantenne del posto debole però che presenta problemi di ritardo mentale l'uomo è stato indotto dagli occupanti della Fiat Panda a ritornare velocemente a casa dove proprio poi a casa si è materializzato il Tomaselli che avrebbe picchiato con uno bastone il ritardato e la persona che soffre purtroppo di ritardi e quindi è stato percorso alla testa con uno bastone è stato poi chiuso in casa a chiave Tomaselli avrebbe approfittato della situazione per rubare un orologio alcuni monili dalla stanza da letto è stato individuato grazie alle immagini che sono state estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e dunque verificate dai carabinieri che hanno così proceduto all'arresto ad Acireale il Gal Terre di Aci apre alla filiera agroalimentare promuove l'adesione ai consorsi riconosciuti per la promozione dei produttori siciliani la comunità europea incoraggia e sostiene la tracciabilità dei prodotti un segmento che fa registrare trend di vendita in forte crescita la comunità europea incoraggia e sostiene finanziariamente i consorsi nel settore agroalimentare il Gal gruppazione locale Terre di Aci apre i produttori locali e li invita ad aderire a progetto sulla tracciabilità delle filiere agroalimentari bando in scadenza il prossimo 20 febbraio rivolto ad agricoltori e aziende collegate l'accordo prevede una serie di benefit economici e la possibilità di entrare nel mercato di nicchia che negli ultimi anni ha fatto registrare un trend in forte crescita in termini di gradimento e vendita di coloro che dispongono però dei requisiti richiesti e certificati dall'Agenzia per il Mediterraneo che opera in stretta sinergia con il marchio regionale istituito presso la regione siciliana che indica la tracciabilità del produttore al consumatore un marchio di qualità che segue un preciso disciplinare ingloba i prodotti della terra e i loro derivati come spiega il direttore del Gal Acese Anna Privitera il Gal Terre di Aci ha accolto l'invito di un collega quindi di un gruppo di Gal che hanno avuto un finanziamento per il marchio di qualità alle filiere produttive quindi anche noi stiamo promuovendo sul territorio l'adesione a questo marchio di qualità per la rintracciabilità dei prodotti e per dare chiaramente maggior valore alla produzione perché una produzione locale che non porta il marchio di origine siciliana o della qualità sicura garantita della qualità dalla regione siciliana ovviamente è meno appetibile diciamo nei mercati perde di competitività soprattutto in un momento in cui tantissime prodotti agricoli provengono da altri territori quindi come dall'America Latina o da Israele eccetera quindi in considerazione del fatto che la nostra produzione ha veramente dei requisiti qualitativi di eccellenza questi devono essere certificati in qualche modo così che il consumatore finale possa sapere che a tavola sta consumando un prodotto siciliano realizzato in Sicilia certificato quindi significa che tutti i processi di produzione sono rispondenti ad un disciplinare di qualità non solo singoli produttori ma anche soprattutto filiere che abbraccino più soggetti accomunati da obiettivi condivisi e desiderosi di conquistare fette importanti del mercato agroalimentare in ambito nazionale ed internazionale le potenzialità non mancano ma sarà fondamentale fare rete per contrastare la forte concorrenza dai mercati esteri i singoli produttori anche consorziati perché confluiscono già in una banca dati di imprese che già hanno la certificazione di qualità quindi è un'estensione si sta aprendo per dare l'opportunità anche a chi ancora non è certificato di poter prendere la certificazione e di far parte di una filiera che appunto poi verrà diciamo tracciata sia dall'origine della produzione fino alla trasformazione finale quindi fino alla vendita e questo poi presuppone anche la blockchain quindi la rintracciabilità di tutte le fasi del prodotto quindi dalla origine fino alla trasformazione alla consumazione finale A Cicatena è in agenda lunedì prossimo la riunione chiarificatrice tra sindaco e maggioranza dopo lo strappo di mercoledì al consiglio comunale con la mancata approvazione del piano triennale delle opere pubbliche le frizioni sarebbero scaturite dall'attribuzione delle deleghe il sindaco di A Cicatena nell'oliveri ha fissato per lunedì prossimo una riunione chiarificatrice con la maggioranza consigliare dopo lo strappo consumatosi nel corso dell'ultima seduta del civico consesso in cui il governo della cittadina è andato sotto con la mancata approvazione del piano triennale delle opere pubbliche il proseguo del dibattito utile a gettare le base sul consuntivo fermo al 2019 e stabilire un percorso condiviso per fronteggiare il buco di bilancio di 22 milioni di euro certificato un vordice che colloca A Cicatena tra le amministrazioni in predissesto anticamera del dissesto economico dell'ente con pesanti ricadute in termini di servizi e tributi alla cittadinanza già fiaccata dall'emergenza sanitaria qualcuno ha iniziato a scaldare i muscoli e quindi vorrebbe credo a mio avviso forse anticipare i temi è chiaro che quello che è avvenuto l'altra sera in consiglio comunale è una brutta pagina di storia politica per A Cicatena è una sconfitta politica per l'amministrazione di cui io ne prendo atto dovuta non alla minoranza bensì alla maggioranza o meglio ancora a parte di essa non era mai successo che l'amministrazione andasse sotto pur potendo contare su dieci consiglieri di maggioranza e vede caso andasse sotto su una delibera talmente importante quale il piano triennale delle opere pubbliche è un messaggio politico chiaro a me che arriva da una parte di consigliere di cosiddetta maggioranza qualora questa ancora esista è una cosa che verificherò da qua a qualche giorno con una verifica fra tutti i dieci eletti e i partiti che sostengono le liste che sostengono e sostenevano gli eletti di questa condizione dopo di che valuterò se vi sono le condizioni per poter andare avanti si va avanti e me lo auguro qualora non ci fossero le condizioni o mutassero alcuni aspetti trarrò le mie conclusioni dopodiché provvederò con propria determinazione a cosa fare a far saltare il banco a quanto pare le scelte operate dal sindaco nell'attribuzione delle deliche decisione mal digerita dal gruppo a sostegno più rappresentativo della maggioranza che ha disotterrato l'ascia di guerra lanciando segnali precisi all'indirizzo del primo cittadino il quale d'accanto suo e nostri microfoni ha chiarito che non intende cedere e farsi dettare l'agenda politica nel momento in cui vi sono due nuovi ingressi in giunta e quindi la giunta prende un'altra conformazione io ho ritenuto opportuno rivedere l'assegnazione delle deliche e ho mosso qualche delega a qualche assessore ho sostituito qualche delega ma ritenendola a fine alle proprie esperienze professionali culturali ed altro io ritengo che oggi l'attuale composizione della giunta è bene distribuita ed attribuita difficile che salti il banco prima della scadenza naturale del mandato tra un anno e mezzo la maggioranza scricchiola ma si tratta di prove generale in vista della prossima tornata elettorale con Oliveri che non fa mistero della propria candidatura per un secondo mandato e i gruppi insieme alla maggioranza punzecchiare e puntellare a seconda delle opportunità la tenuta dell'esecutivo cittadino a riposto sempre nel catanese dunque rimaniamo nuove iniziative di concerto con chi gestisce la raccolta dei rifiuti l'obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e raggiungere il 65% della differenziata oggi ferma intorno al 50% l'obiettivo è quello di raggiungere il 65% della raccolta differenziata tutelando al contempo il territorio a riposto dove dalla prossima settimana importanti novità interesseranno il settore dei rifiuti dal 15 febbraio e sino al 15 maggio due ecopunti uno in via De Maio e l'altro in via della Repubblica luoghi che saranno presidiati dalle 6 alle 18 per poter conferire carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, vetro, umido, secco non riciclabile, piccoli rae, pile esauste e farmaci scaduti accanto a questi un monitoraggio degli errati conferimenti oggi la differenziata nel comune ionico si aggira intorno al 50% sorvegliando quei luoghi particolarmente a rischio formazione di nuove discariche abusive spiega il sindaco Enzo Caragliano soprattutto perché vogliamo raggiungere l'obiettivo prefisso di avere il massimo di risparmio su quello che sono la differenziata e quindi diciamo la disponibilità dei nostri concittadini cosa stiamo pensando di fare a mettere in atto dal 15 febbraio fino al 15 di maggio dei centri di raccolta e mi chiede poter potenziare questa difficoltà che abbiamo al raggiungimento della differenziata questi punti saranno due isole ecologiche una in via della Repubblica punti di maggior sofferenza che saranno presidiate durante il giorno dalle 8 alle 18 con due turni con degli operatori addetti ma soprattutto ci saranno poi la sorveglianza sul territorio per far finire quelle che sono le famose discariche perché saranno non solo video sorvegliate ma ci sarà un'interfaccia costante tra la ditta il comune e i vigili urbani per poter andare a colpire chi è che in difformità afferisce questi rifiuti non differenziati questo è quello il primo obiettivo il secondo obiettivo è quello che continuamente gli operatori ecologici dalle 6 alle 12 mentre che raccolgono andranno a mettere i bollini per l'afferimento non conforme alla giornata ma soprattutto con la geolocalizzazione saranno allertati gli uffici i vigili urbani in modo da poter andare a notificare e quindi contravvenzionare quello che è altro normale conferimento così si dovrebbe raggiungere finalmente l'obiettivo di avere una differenziata sopra il regime del 60% e il comune incomincia ad averne finalmente un'economia un risparmio per i nostri concittadini quindi maggiore tutela maggiore sorveglianza saranno aumentati i punti di sorveglianza e saranno mandati soprattutto gli operatori in questo settore e allo stesso tempo la ditta si sta impegnando con maggiore sforzo per poter tutelare l'ambiente e il territorio rimaniamo nell'area ionica ma da riposto ci spostiamo a Giarre ieri il sindaco Danna ha ripristinato in giunta la quota rosa nominando assessore alla professoressa Ermelinda Nicotra Dario Limura e invece il nuovo vice sindaco della città ionica la giunta comunale di Giarre si riappropria della quota rosa dopo le dimissioni lo scorso dicembre di Patrizia Leonti ieri sera il sindaco Angelo Danna ha nominato nuovo assessore la professoressa Ermelinda Nicotra che entra in giunta a pochi mesi ormai dalle elezioni per il rinnovo del governo cittadino in occasione della presentazione di ieri formalizzata anche la scelta del nuovo vice sindaco individuato nella persona di Dario Limura io mi accosto solo con lo spirito di poter dare una mano cioè quindi quello che si riesce a fare non lo sappiamo e man mano è stata facendo affronteremo le situazioni quindi chi mi parla di programmi progetti credo che sia un po' prematuro dirlo quindi i mesi sono stretti diciamo il tempo è quello che è e quindi io cercherò di rapportarmi con le associazioni con l'amministrazione con i dirigenti del comune e tutti gli impiegati che sicuramente mi daranno una mano per collaborare e portare avanti quelle che sono diciamo le priorità prima di ogni cosa quindi le associazioni sportive che hanno sofferto molto in questo periodo di pandemia e cercheremo insomma di poter realizzare qualche cosa ecco è prematuro dire io farò questo io farò quello e farò quell'altro mi sembra del tutto improprio anche se comunque nel breve periodo ha degli obiettivi che si prefigge di raggiungere allora più che obiettivi ci sono delle idee e le idee che man mano dobbiamo però elaborare per poterle appunto attuare la nostra squadra al di là dell'Equatorosa o meno ha in comune l'idealità forte basata su valori e sulla voglia di fare a servizio della città e in questo senso la professoressa Ermelinda già da parecchi anni con me ha sviluppato quello che è il progetto amministrativo che in qualche modo in questi anni ho cercato di applicare le deleghe? Le deleghe sono appunto quelle relative allo sport relative alla cultura relative alle pare opportunità alle politiche animaliste e a queste in qualche modo anche se non gliel'ho conferita già le ho anticipato che mi affiancherà sicuramente in quello che è il condensioso il condensioso che in un ente peraltro un ente complesso come il nostro che ne porta in eredità tantissimo sicuramente avere a mio fianco la sua presenza ci aiuterà anche a coordinare meglio le attività degli uffici su questo settore importante il vice sindaco sarà l'assessore Dario Limura che ancorché giovane è diventato diciamo l'assessore anziano di questa giunta che si è rinnovata nel corso di questi anni con innesti che tra virgolette hanno sempre rappresentato un passaggio di testimone Dario Limura è con me ormai da due anni quindi adesso ho assunto anche alcune deleghe importantissime tra cui i lavori pubblici oltre a continuare quelle delle politiche scolastiche e dei servizi sociali e quindi mi sembra giusto dare riconoscimento a un assessore che ha ben lavorato con me Rieccoci in studio dopo la pubblicità per i saluti finali termina infatti qui la prima edizione del nostro telegiornale la prossima questa sera alle 19.45 grazie per essere stati con noi buono proseguimento di pomeriggio le previsioni del tempo per la giornata di domani sabato 13 febbraio in Sicilia giornata piovosa con eventi anche temporaleschi principalmente nella parte centro-occidentale della regione i venti saranno deboli da sud sud-ovest i mari quasi calmi o poco mossi le temperature le massime in discesa principalmente nella parte orientale della regione farà più caldo a Catania e Siracusa con 17 gradi le temperature minime più basse verranno registrate a Enna e Ragusa 6 gradi poi Caltanissetta con 7 l'idea a la previsione